ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi se alcuni mesi fa mi sono letteralmente invaghito del sound del modo di suonare e anche dell'espressività della chitarrista Larry Basilio oggi sta nascendo una nuova stella nel panorama del metal progressivo si chiama Alissa Day ha appena pubblicato un nuovo clip dal titolo Trundle che vi consiglio di vedere ed ascoltare e fa parte di quel panorama musicale dove possiamo racchiudere i Goat, Max Ostro ed altri giovani che stanno letteralmente esplodendo dal punto di vista musicale e questa sta dando veramente un'impronta nuova al metal progressivo attuale andate vi consiglio di andare ad ascoltare qualche clip perché secondo me tra non molto questa potrebbe diventare la nuova regina del metal moderno sentite sentite che suono e sentite che tecnica e che espressività è veramente da paura noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao